Amici del web ci troviamo qui alla comunale di Guidonia nel corso dell'allenamento dell'Under-19 con un ospite speciale, Marcello Pazziani. Sappiamo che è stato anche quest'anno, è una grande stagione per te, seguendo l'alice consecutivo in Serie B. Complimenti l'anno scorso anche il centro campista con il mio rendimento. Prospettive per l'anno prossimo e con i suoi raggiunti per gli infatti di Giaccare. Per l'ospettive sono sempre voluti andarsi a migliorare, quindi vediamo, dato un po' di preparare grandissime sorprese, anche se comunque come già vedete, a Perugia non trova molto bene, quindi sarei felicissimo anche perché è una società che ha grandi ambizioni e se dovessi restare lì sicuramente potremmo fare l'unione di questo. Tra l'altro, come allenatore, pinzaghi, snesta, quindi proprio in sbarterna. Tutti i campioni del mondo, forse potrebbe arrivare un altro campione del mondo a Perugia, quindi vediamo. Vieni anche te, mister, un altro campione del mondo perché si parla di odd, odd o grosso, perché poi tutti ci ricordiamo quel ricordo.